Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Sendo peggiorata la situazione, rendono ancora più difficile l'andare in pensione. Quindi fanno il contrario di quello che avevano detto. Quindi bene per i conti pubblici, ma per loro è un po' difficile da sostenere. Si alzano le tasse. Le tasse che vengono abbassate, vengono abbassate prendendo soldi in prestito. Due terzi della manovra è fatta in deficit. Questo deficit è rapportato a un PIL che loro vedono in crescita dell'1,2. Confindustria ha detto che sarà 0,5. Il che vuol dire che sono conti sballati, ma non perché lo dica solo Confindustria. Perché Banca Italia ha detto 0,8. Tutti i centri studi stanno tra 0,5 e 0,8. Quindi sono conti che quando arriveranno sui mercati alle agenzie di rating, tutti vedranno che sono conti che non stanno in piedi. Davanti a questa situazione è chiaro che cercano una via di comunicazione in cui si parli di altro. Ora vedremo se le opposizioni abboccheranno e parleranno il premierato oppure staranno sul pezzo e contesteranno i singoli passaggi con i pannolini che aumentano, con le sigarette che aumentano, roba da anni 70. Però con dei conti che stanno in piedi all'occhio, secondo me, delle agenzie di rating e secondo diversi osservatori, solo perché la situazione internazionale è quella che abbiamo detto finora. Cioè garantendo l'Italia il sostegno agli Stati Uniti, garantendo l'Italia il sostegno alla parte nobile del contesto internazionale, conviene non scuotere troppo le carte dentro l'Italia. Ma la situazione economica alla luce di questa manovra è tale che le polemiche potrebbero essere veramente molto forti non solo dall'opposizione ma dal consesso civile italiano che contesterà questi inasprimenti sul fronte delle pensioni e delle tasse e anche da parte delle opposizioni e delle agenzie internazionali. Quindi è chiaro che Giorgia Meloni tenta di accendere almeno il fuoco del premierato sperando che un po' l'opinione pubblica possa essere distratta da una polemica. Sì vogliamo il premier forte, no lo vogliono debole, la sinistra non vuole guidare il paese noi invece lo vogliamo guidare, tutte chiacchiere mentre viene data a 1,2 una crescita che sarà di 0,5.